Qui con Donatella Conzatti, segretaria dell'UBT. Allora, come è andata la elezione europea dal vostro punto di vista con Dorfman rieletto? Siamo soddisfatti naturalmente, Dorfman è stato rieletto e questo era il nostro primo obiettivo e Dorfman è stato anche il candidato più votato in Trentino e questa è una grande soddisfazione per noi come partito territoriale. L'alleanza con il PAT secondo lei ha portato più voti a Dorfman e servirà per il futuro, si rafforza l'ipotesi di un partito territoriale unico o comunque che lavora assieme? Ma è un finto dibattito questo, nel senso che la mia tesi congressuale parlava di partito territoriale ma è un dibattito interno all'UBT, è un dibattito profondo che parte prima di tutto dalle radici culturali del partito territoriale e quindi in questo momento ragioniamo in caso di lì. Grazie.